Ti piace cantare? Partecipa anche tu al Festival Show! Gara Canora riservata a cantanti, anche canzoni inedite, senza limite di età. Domenica 31 marzo 2019 Presso Ristorante da Nonno Franco by La Mimosa Lamo Taranto Per iscrizioni e informazioni telefonare al 346-7237-093, posti limitati. La serata sarà ripresa e trasmessa sul canale 93 del Digitale Terrestre Viva l'Aprilia Channel e dal canale 879 della piattaforma Sky Viva l'Italia Channel. Premi per i primi classificati. Ad ogni concorrente saranno consegnati un ricordo della serata e un DVD con la propria esibizione. Apprettati ad iscriversi! Ti aspettiamo!